Speculari, tanto Buzzi, al tiro, sbaglia, rimbalzo di Thornton, Vindman, 6 a 5, Sean sotto per Buzzi, Thornton, tutto il pianella in piedi a saltare signori, è uno spettacolo. Però quello che mi piace sottolineare, vorrei che fosse veramente sottolineato a grandi lettere, è questo, c'è un pubblico al pianella stupendo, io mi auguro che al Parigi ce ne sia altrettanto. Comunque erano davvero anni che non si vedevano queste cose a Cantu ed è veramente bello, poi la partita è lunghissima. C'è Gerry che esce dal blocco, poi lo zio, Buzzi, la tripla di Buzzi, Thornton! Per Gerry, mamma mia, Gerry che stava cadendo, alla fine modello frombogliere, Gerry l'entrata, c'è fallo, buono a Calestro! Gerry, vaccallo! Gerry, pallone per Semainz, l'entrata dell'azio! A schiacciare! Aspetta Gerry, 7 secondi per dare al tiro, il tiro di Gerry! Ma è caldo! Da due punti! Adà a Pino, contropiede, Antonello! Viva! Contropiede, due contro uno, Milic, oh la stoppata galattica di Gerry McCullough! Un po' in tutti i modi, Stonruck riceve la tripla di Shaw! Stonruck! Ryan per Thornton, Buzzi contro Pilutti, Thornton si va, si alza la tripla di Buzzi! Thornton! Fuori per Buzzi, per Antonello, la tripla di Antonello! Viva! Ryan, Antonello, l'entrata di Antonello, viva! Tutto lo specchio del... La schiacciata di Antonello! Viva! Pietro Terrano mi facendo che è finita Pietro, Antonello che va a schiacciare, io non so da quanto non lo vedo La piccola Cantù che sta terrorizzando la grande Bologna Sì, adesso, oggi era una partita molto difficile perché per loro era il match point E adesso noi, adesso andiamo a giovedì a Bologna e tentiamo col paccio anche se è difficile Comunque penso che questo, anche se dovessimo perdere giovedì, sia la conclusione di donata stupenda Per questo pubblico e per questi ragazzi Grazie Alessandro